Tornano il Festival di Fuochi d'Artificio e Vette d'Artificio nel distretto turistico dei Laghi e delle Valli. Presentazione stamattina a Baveno. Sono nove gli appuntamenti del Festival in calendario che quest'anno sconfina con due date in Svizzera. Una a Locarno l'8 luglio e una a Lugano il 1 agosto, grazie al coinvolgimento della Regio Insubrica. È un segnale importante perché è riconosciuto il valore di questa iniziativa, di questa manifestazione. Regio Insubrica partecipa quando si può dare un taglio da Regio Insubrica alle manifestazioni. Con il coinvolgimento quest'anno delle nostre due province, ovviamente Vicio e Novara che storicamente sono presenti, ma anche del Cantonticino, quindi con Locarno e Lugano, è un ulteriore passaggio importantissimo affinché possa anche estendersi in futuro verso il Lago di Como, perché no? Le altre serate, Sesto Calende il 22 luglio, Arona il 23, Cannobio il 5 agosto, Pallanza il 13, il 14 agosto Santa Maria Maggiore, il 20 e 27, il finale Omenia. Vette d'Artificio propone i fuochi il 28 luglio al Mottarone, il 5 agosto a Macugnaga e il 12 agosto a San Domenico di Varzo. Il circuito sempre più vuole essere unito una famiglia e propone anche un concorso fotografico. Stiamo cercando di premiare, vorremmo premiare tutto il pubblico che partecipa, però è impossibile, quindi abbiamo cercato di premiare il fotografo ammatoriale, che è una categoria di persone molto agguerrita, nel senso che si muovono per anche più giorni, ci seguono, commentano, postano, quindi è giusto che queste persone vengano premiate. Ci sarà un premio per ogni data, fino alla chiusura generale di vette d'artificio con la premiazione generale di tutte e tre le tappe. Ci sarà un premio locale dato da ogni tappa, il premio invece finale è dato da vette d'artificio. In occasione degli show pirotecnici, tanti gli eventi collaterali proposti nelle diverse località. Questa passione deriva sicuramente intanto dalla storia, perché tutti questi organizzatori hanno un'esperienza di 20, 30, 40 o meglio anche oltre 100 anni di fuochi, quindi sanno benissimo che è uno spettacolo che sta bene nel nostro territorio, ma aggrega moltissimo anche altre manifestazioni.